Il riscatto dei banchi a rotelle, inizialmente vituperati e in gran parte accatastati nelle scuole, soprattutto per la scomodità del piano di lavoro, l'Istituto Omnicomprensivo di Città Sant'Angelo ha pensato a un escamotaggio. Il professor Michelangelo Brandimarte ha infatti inteso aggiungere un secondo piano in legno, leggero e removibile, affinché sia più grande e si possano poggiare vocabolari, album, squadre per le materie tecniche, eccetera. Siamo stati nella classe seconda G. Non riuscivamo a disegnare correttamente con gli strumenti da disegno perché ruotando il foglio la squadretta sbatte e quindi era inutilizzabile. Facciamo vedere il banco prima, questi erano i banchi a rotelle, banchi che sono minuscoli, quindi erano praticamente inutilizzabili. Voi cosa avete fatto? Noi abbiamo fatto innanzitutto un'analisi dei pro e dei contro di questi strumenti fornitici dal Ministero che hanno oggettivamente dei lati positivi, cioè intanto tutte le certificazioni sono ok, sono fatti bene, sono anche comodi, ci permettono un setting d'aula differente, possiamo mettere i ragazzi in cerchio, possiamo muoverli come vogliamo. Il problema reale è che il piano d'appoggio è molto piccolo e oltre ad essere piccolo ha quel rilievo che è pensato probabilmente per l'università per far fermare un quaderno, mentre per noi che usiamo molto il banco anche con le squadrette, con gli strumenti di disegno, quello era un grandissimo limite. Allora abbiamo analizzato i problemi, abbiamo analizzato i contro e poi ragionando su queste cose ho pensato a come poter migliorare la situazione. Intanto avevamo bisogno di un piano d'appoggio più grande, questo era in dubbio, un piano d'appoggio uniforme che non avesse quel bordo. L'idea iniziale era quella di stampare un piano in plastica e sostituire il piano d'orecchio, ma non ce l'avremmo mai fatta né con i costi né con i materiali. Allora, unito un po' la passione per la falegnameria, ho fatto un prototipo che sostanzialmente sfrutta proprio il punto negativo, cioè l'asola che abbiamo realizzato si va ad agganciare perfettamente sul rilievo, così da bloccare il banco. E' leggero perché in MDF i ragazzi li prendono da soli in autonomia nell'armadietto, ogni ragazzo ha un banco associato e ne ha cura per l'anno scolastico. Ragazzi voi cosa ne pensate? Sono molto comodi. Comodi? Sì! Tu mi stavi dicendo prima Lorenzo che questo progetto però continuerà. Sì sì ovviamente stiamo lavorando su un progetto in cui vorremmo convolgere tutti quanti i cittadini di Città Sant'Angelo, anche il sindaco, in cui il nostro scopo è raccogliere una buona somma chiedendo un euro solamente, un euro a testa a ogni città di Città Sant'Angelo, un contributo anche grazie al sindaco, per permettere a tutta la scuola di avere questi banchetti super comodi e con gli stadi soldi di organizzare altre gite, altri concorsi. Grazie. Grazie.